Diretta? Sì. Provegli un po' si trova uno. Però già che a me qua si colora, significa che ci sta. Sì. In modo che non lo so, non lo so. No, 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 no. In modo che non lo so. Su cosa che fanno poco. L'ingresso è uscito a vista. Escere dal computer e entra anche l'audio. Ve lo sta entrando. Che infatti da qua si vede. Ecco qua. Funzioni. Eh, però io non mi do la bar. Dove? Sì, sì. Ecco. Ma in realtà siamo pure in diretta. No, scusami. Quanto altro c'è appuntamento? Un appuntamento possibile. Ah, ecco. Ah, giustamente tu... Non c'hai la monitor. Infatti servirebbe un monitor diretto. Scusami, puoi uscire così? Sì, sì, è fatto apposto. Che fai? Si copri la... Eh, un po' queste sono cose, non lo so. Vabbè, pure basta che fanno così. Sì, è la donna. Sì, è la donna. Sì, è la donna. Sì, è la donna. Si è ottimizzata. È una donna. Sì, è la donna. Allora... Prova? Prova, prova. Prova. Vabbè, ci avrà qualche secondo di ritardo, sicuramente. Ah, vedi. Sì, vabbè. Ah, ma che le gioca tra tutto l'audico, ma sicuramente sì. S'ha staccato sopra, forse. Sì, che è andato, sì, che è andato. Eh, come si sente bene. Prova? Prova microfono streaming. Prova microfono streaming. Okay. Grazie. Grazie.